Dopo questa perlustrazione nella zona limitrofe alla stazione di Gallarate, sono venuto qua sapendo che Gallarate era messa particolarmente male sul profilo della clandestinità, della sicurezza, dello spaccio, dei problemi di non integrazione di questa città. Dopo la perlustrazione ho dovuto ricredermi perché è messa molto peggio di quello che pensassi, non ho mai visto un posto con così tanti negozi di non italiani dove è evidente che c'è la presenza di illegalità, dove è evidente che c'è una giunta che non ha fatto bene il suo dovere e che col minato disposto di questo governo che continua a portare sul nostro territorio clandestini c'è una bomba che poi si vede nei fatti di cronaca anche delle ultime settimane. Il giro qui a Gallarate che dimostra come alla fine a dare spazio a chi vuole accogliere a tutti i costi, ci troviamo in una situazione come quella che abbiamo constatato oggi, abbiamo addirittura rischiato un'aggressione davanti a un normalissimo esercizio pubblico, questa non è la Gallarate che vogliamo, siamo sicuri che con Andrea Cassani sindaco questa sarà la possibilità, l'occasione per Gallarate di cambiare finalmente il verso, un verso che ci sta portando in una situazione inaccettabile dove una famiglia non può scegliere Gallarate oggi per vivere perché avrebbe paura la sera alle sette e mezza a uscire di casa. Siamo venuti qui quest'oggi a fare una passeggiata nella zona stazione con l'onorevole Grimoldi che aveva letto dalla stampa nazionale le cronache sulla situazione della zona stazione Gallarate effettivamente anche lui si è accorto del degrado comunque della presenza esclusiva di stranieri nella zona stazione, abbiamo fatto una passeggiata per 20 minuti, non abbiamo incontrato un italiano, c'erano solo stranieri, tra l'altro c'è stato anche qualcuno che ha aggredito verbalmente il consigliere regionale Emanuele Monti fuori dalla sala scommesse, Gallarate deve tornare ad essere una città vivibile, purtroppo gli esercizi commerciali intorno alla stazione sono quasi esclusivamente di stranieri e dobbiamo fare qualcosa per riportare un po' di vita sia per quanto riguarda la vivibilità della zona della stazione sia per quanto riguarda la sicurezza quindi necessariamente dovremo introdurre dei pattugliamenti serrati in questa zona perché è una delle zone più critiche di Gallarate